Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel canale e oggi ci divertiamo ad aprire delle cosine super cute della Sbabam perché in questo periodo un po' triste, un po' duro per tutti ci consoliamo anche con queste cosine quindi secondo me è giusto trovare delle cose che ci piacciono e cercare di consolarci anche con queste cosine voi sapete che io sono una collezionista, sono una persona che adora le cose della Disney, adora le cose super cute, kawaii e bla 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 e mi sono lasciata tentare e ho fatto shopping in edicola e ho comprato alcune cosine prima di aprire le varie polemiche, magari non si esce di casa, non si può eccetera io in edicola non ci sono andata per comprare queste cosine, ovviamente non è che sono uscita apposta ma dovevo fare le ricariche telefoniche per tutta la famiglia e quindi sono uscita per questo motivo e siccome ero nell'edicola ho anche comprato queste cosine quindi diciamo che l'uscita era necessaria appunto per, non per andare a comprare queste cosine ma per le ricariche telefoniche detto questo iniziamo subito, la Sbaban fa sempre cose super belle, a me piace moltissimo come tante altre cose dell'edicola però le comprerei tutte e io mi sono comprata due goscimi eccoli qua, goscimi sono super cute che cosa sono? Allora, io dico la verità, li avevo presi per dei gattini ma mi hanno detto che sono cricciettini sono in queste scatole tipo torte e guardate che meraviglie che sono allora, si possono scegliere perché hanno il, diciamo il buchino possiamo chiamarla così, la finestra che si vede il musino e sono riscaldabili nel forno a microonde e diventano caldi perché dentro hanno tipo dei semi, penso o qualcosa del genere e sono stra stra carini e così rimangono caldi e li potete utilizzare per scaldarvi per esempio le manine il primo che ho preso è stato lui Jack devo dire che ho fatto degli spoiler ovvero sono andata nei canali che hanno aperto tutti questi bellissimi goscimi e mi sono scelta i due che ho preferito ovvero Jack eccolo qui, guardate che cute guardate che carino che è con questi colori stupendi ha la codina guardate che codina ha questa faccina troppo tenera cioè guardatelo mamma mia che bello morbidissimo oltretutto e ovviamente è pesantino perché ovviamente c'ha dentro queste cose che sembrano sassolini ma non saranno sassolini ma appunto saranno dei semi delle cose che tengono il calore purtroppo io non ho il forno a microonde quindi non posso provare questa magia ma immagino che sarebbe troppo carino tenerli caldi guardate come sono fatti bene guardate che carini guardate solo gli ho strappato i pelini con lui c'è il suo piccolo tagliandino guardate che bello il disegno di Jack oddio quanto è tenero che dorme a pancia per aria e dentro c'è scritto il mio nome è Jack sono un cricetino molto simpatico in cui piace ridere e scherzare sono nato il 9 aprile fra un po' farà il compleanno e hanno simbolo fortunato le stelle infatti sul pancino ha le stelline e lui è Jack ed è super carino mi piace un sacco secondo che ho preso è Ciki scritto così Keki faccina bianca così vado a aprire anche lui perché non li ho ancora aperti cioè si li ho aperti velocemente però non li ho aperti proprio bene perché volevo fare un po' il video insieme mamma mia questo è super stretto come ok allora lui è Ciki ed è super carino anche lui oddio questo non l'avevo proprio ancora aperto guardatelo lui è bianco ed è fucsia e verde con queste striscioline e ha questo ciuffetto possiamo chiamarlo sempre verde e rosa verde e fucsia e ha gli occhioni verdi guardate che carini troppo troppo bellini guardate oh mamma mia questo è più cicciotto forse dell'altro il suo simbolo fortunato è la coccinella che la vedete sulla pancina e vediamo cosa dice il suo tagliandino allora anche lui ha questo tagliandino troppo simpatico che carino allora dice il mio nome è Ciki sono una cricetina quindi lei è una femminuccia allegra e anche un po' vivace voglio starti sempre vicino simbolo fortunato coccinella sono nata il 18 ottobre ce ne sono tanti ce ne sono tanti c'è Eli Axel Dolly Jack Ciki appunto pochi pochi simpa scrunchi e violetta ce ne sono tanti e sono tutti carinissimi io ho scelto loro due ve li faccio ancora vedere una volta ecco di qua che carini dimenticavo di dirvi il prezzo costano 3,50 euro l'uno poi mi sono lasciata tentare da una cosa che costicchia un po' di più perché viene 6,99 euro però è troppo carina e sono le Clip Princess ora ve la faccio vedere prima qua lei sarebbe Jasmine ragazze in pratica perché ci sono le varie principesse ve le faccio vedere da dietro e c'è Cenerentola Belle Biancaneve poi ce n'è una che mi piaceva tanto che si chiama La Regina dei Ghiacci Raperonzolo Aurora La Sirenetta e La Principessa d'Oriente che appunto sarebbe Jasmine sono carine perché queste si possono se ne hai più di una io adesso ho solo lei la puoi svestire e metterci un altro abitino ora io vado ad aprirla perché non l'ho ancora aperta quindi è una recensione a fresco vediamo se riesco ok si ho aperta eccola qua wow che carina no vabbè è carinissima carinissima guardatela mi piace un sacco già ve lo dico qua ha il vestitino tutto glitter adoro i capelli al vento messi così è bella grande sarà 7-8 cm e si il vestitino è diciamo si toglie così penso ok rimane diciamo senza abitino e se hai un'altra clip princess la puoi vestire con un altro abito io ovviamente non ne ho un'altra adesso e quindi gliela rimetto a lei come si fa qua aiuto penso che si infilino no? si si infilerà come glielo ho tolto oppure no oh oh ah no ok si è proprio a clip ok aspettate che la voglio mettere perfetta ok eccola qua guardate che bella probabilmente non avrò i commenti attivati perché altrimenti dicevo scrivetemi se mi piacciono però se volete potete scrivermelo su instagram sono se me lo potete dire insomma fatta molto bene guardate che bella guardate che viso che ha sono piaciuta un sacco anche a mia mamma quando l'ho portata a casa mi ha detto troppo carina mi piaceva molto anche come ho detto prima la principessa regina degli acci se magari trovo una foto ve le lascio tutte qua ma sono tutte molto carine anche raperonzolo insomma le vorrei tutte però non posso perché 7 euro per 1,2,3,4,5,6,7,8 viene a costare un po' troppo però sarebbe veramente una bella collezione da fare troppo carina troppo troppo carina ragazzi finirà anche lei nella collezione delle mie cosine carine è tutto qua per oggi vi volevo fare vedere questi acquistini da edicola perché a me piacciono e spero che piacciono anche a voi so che molti mi seguono anche se non siete bambini ma volentieri e quindi nulla se vi va iscrivetevi al canale lasciatemi un bel pollice in su i commenti penso che saranno disattivati quindi non potrete commentare i miei mi dispiace molto ma se volete potete scrivermi su instagram di cosa ne pensate di questo video e nulla vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video bye bye ciao